Gentili telespettatori, buona giornata. A Quarta Repubblica Bassetti viene di nuovo invitato per parlare del vaiolo delle scimmie e così ricominciano le ospitate per i virologi, virologi in festa, spesso scritto nei titoli in modo così divertente, no? Virologi in festa. E viene anche criticato in studio Bassetti. Intanto ci mancava adesso l'ultima ondata di psicosi per il vaiolo delle scimmie, un qualcosa che si esaurirà in poco tempo, almeno così, io credo. E così Nicola Porro subito invita Bassetti per fare audience. Ovviamente abbiamo capito che tutti i talk show, Floris, Gruber, Porro, Giordano, tutti i talk show, invitano per l'audience, oggi si parla di vaiolo delle scimmie, vai, invita gli ospiti così seminiamo un po' di insicurezza. E' così. Covid, vaiolo delle scimmie, crisi internazionali, si invitano le persone per fare interessare il telespettatore e non cambiare canale. Tutto questo, voi lo sapete, che non ha una logica informativa. I talk show non sono fatti per informare. I talk show sono intrattenimento. Intrattenimento per fare ascolti. E allora invitano qualunque persona possa portare un aumento degli ascolti. Meglio se ci sia anche una bella rissa televisiva, eh? Attenzione. E così, a rete 4 va in scena, ovviamente, la ricerca dell'audience. Ospite Matteo Bassetti, il virologo richiamato in servizio. E' molto bello questo, lo metterò nell'immaginetta di copertina. Richiamato in servizio proprio per il vaiolo delle scimmie. Ecco, Bassetti però getta acqua sul fuoco della psicosi. Lo fa in un modo... Dice, se questo fenomeno fosse capitato tre anni fa, nessuno gli avrebbe dato attenzione. Questo è quello che ho sempre detto io in questi ultimi giorni. Se non avessimo avuto il Covid e di questa notizia, non ne avrebbe parlato nessuno. C'errebbero stati dei casi, punto e basta. Poi l'epatite, quella sconosciuta, che poi è sempre stata sconosciuta, ma faceva tanto figo il nome dell'epatite sconosciuta. Sconosciuta, sì, sconosciuta. Ecco, di quella se ne è parlato, poi non se ne è parlato più. Oggi che si parla del vaiolo delle scimmie, magicamente è tornata anche l'epatite, come dire, uè, ci sono i virus, ma i virus ci sono sempre stati. Ma giustamente Bassetti dice, se fosse capitato tre anni fa, nessuno gli avrebbe dato attenzione. Questo virus passa da una persona all'altra per contatto diretto, ma al momento le forme sono lievi e si autolimitano. dice, mettendo un bel freno a mano al panico serpeggiante. Poi arriva ora Borselli, che è una firma di Libero, ospite nello studio di Nicola Porro, la quale non attacca direttamente Bassetti, ma fa capire alcune cose. Dice, non è cambiato nulla. Ricominciamo con un'informazione che dice tutto e il contrario di tutto. È una comunicazione che fa parte di quella liturgia del terrore. Dice tutto e il contrario di tutto. Ricominciamo con l'informazione di questo tipo. Sì, perché oggi Porro invita Bassetti che dice non facciamo allarmismi, si trasmette solo così. Poi domani o il giorno stesso un'altra trasmissione invita un altro virologo di quelli che conosciamo che dirà no, bisogna preoccuparsi, si trasmette per via aerea come il covid, bisogna mettere le mascherine. E poi il giorno dopo ne arriva un altro e dice ma le mascherine, ma stiamo scherzando? Assolutamente no. Ecco, tutto e il contrario di tutto. Questa è la realtà. Tutto e il contrario di tutto. A cui abbiamo assistito durante il covid. Dove ovviamente, come vi dicevo prima, questi programmi non sono di informazione. Sono dei programmi che sembrano fatti di disinformazione. Cioè l'intento non è quello. Però chiami 6-7 virologi che hanno tutti opinioni diverse e raccontano tutti cose completamente o diametralmente opposte. Poi tu a chi credi? A quello che ti è più simpatico? A quello che parla meglio? A quello che è più convincente? Magari quello che ha più ragione è quello meno convincente perché non sa parlare bene in pubblico. E allora tu credi magari a quello più carismatico che sta dicendo un sacco di fesserie. Ma la scienza non dovrebbe essere con una sola voce? Eh no, no. Realmente no. Ci sono delle cose prestabilite, ma tante cose sono opinabili. Io penso che, io credo che, io sono sicuro, credo, penso che. Ecco. Quindi che... Allora, non credo che questo vaiola delle scimmie, questo... epatite sconosciuta possano diventare il nuovo covid, da farne trasmissioni, restrizioni. Non credo proprio. Tutto quello che si parla adesso, il vaccino, mettiamo il vaccino obbligatorio, vacciniamo i sanitari. È tutta una messa in scena perché sono notizie che cercano lo scoop, no? Voi sapete che le notizie sui giornali oggi viaggiano in un certo modo. Più il titolo è accattivante, più la notizia fa scalpore, più viene aperta quella pagina di internet della notizia e saltano fuori più pubblicità. Più pubblicità saltano fuori, più pagano il giornale online. Guardate, in questa pagina che io ho aperto adesso, per questo articolo, vi dico quante pubblicità ci sono. Allora, ne conto. Una, due, tre, no, questa no, tre no, tre, questa sì, tre, quattro, cinque, sei, poi vado giù, sette, otto, nove, dieci, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quattordici pubblicità in questo articolo che ho aperto. Quattordici. Più persone aprono questa pagina internet, più queste aziende che hanno messo la pubblicità pagheranno a questo giornale soldi. Quattordici pubblicità. Sono tante, quattordici. Così funziona. Pertanto, più il titolo è accattivante, più fa scalpore, più la mettete giù in maniera tragica e più persone apriranno quell'articolo di giornale online e vedranno le quattordici, non è importante vederle le quattordici pubblicità, solo il fatto di aver aperto la pagina quelle pubblicità pagheranno di più per quello che voi non avete magari neanche visto perché avete aperto e chiuso la pagina in dieci secondi. Grazie a tutti e arrivederci.